Wow, molto impressionante e molto felice di respirare questo bello e caldo l'air su domenica di domenica. Questa mattina giovedì 6 febbraio alle 10.12 ore italiana insieme ai suoi compagni di viaggio Cristina Koch ed Alexander Skvortsov dopo 211 giorni di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano ha fatto rientro sul pianeta Terra per la seconda volta. Astro Luca, 43 anni, originario di Paternò, pochi chilometri in nord-ovest di Catania era già infatti stato a bordo della Stazione Spaziale nel 2013 come ingegnere di volo, primo astronauta italiano a compiere passeggiate nello spazio una delle quali, quella del 16 luglio 2013, conclusasi in modo avventuroso a causa di un problema al casco. Questa volta invece il suo compito era quello di comandante della stazione le attività extraveicolari che ha condotto sono state quattro per un totale di oltre 33 ore, tutte complicatissime e tutte giunte a termine senza intoppi. Ora lo attende un periodo di riadattamento di qualche settimana alla gravità terrestre al centro di addestramento dell'ESA a Colonia per tornare a camminare normalmente e poi chissà quali nuovi obiettivi. per tornare a camminare. Per tornare a camminare.